ciao a tutti ragazzi oggi parliamo di zero a di un gioco gratuito che mi è stato consigliato io non lo conoscevo assolutamente mi è stato consigliato da davide un amico di facebook iscritto anche lui al canale me l'ha consigliato ha detto guarda c'è questo bel gioco che è molto molto simile a age of empire perché non ci fai il video io gli ho dato uno sguardo comunque l'ho scaricato e l'ho provato ed effettivamente diciamo che è quasi la fotocopia di age of empire ovviamente questo è un gioco gratuito ed è ancora in alfa quindi ha ha dei problemi insomma ancora è in alfa ci sono alcuni bug ci sono dei rallentamenti quando ci sono tantissime unità per la mappa anche le mappe grandi possono dare dei problemi comunque il gioco è gratis ragazzi non ci lamentiamo potete giocarci online sia con persone che non conoscete cioè penso ci sia una buona community di questo gioco sia con i vostri amici comunque vediamo prima cosa come scaricarlo allora vi lascerò questo link di questa pagina in descrizione il gioco si può giocare sia su windows che su linux e anche su mac noi per scaricarlo su windows io non ho gli altri due sistemi quindi si devono un po' arrangiare gli altri per windows cliccate qui arriverete a quest'altra pagina cliccate su download for windows e scaricherete un file che vi servirà per utorrent quindi scaricherete il gioco con utorrent lo dovrete installare un cosa molto semplice il gioco è anche in italiano si la lingua si cambia dal menu di gioco quindi è tutto qui ragazzi io non farò il gameplay perché le partite in questo gioco durano ore quindi non mi sembra il caso però vi farò vedere il trailer del gioco il trailer ufficiale quindi io mi fermo qui vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto a mettermi un like se questo video vi è stato utile e vi lascio al video del trailer alla prossima ragazzi ciao 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 io Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.